Ciao a tutti, come forse sapete il Presidente Maroni ha presentato il libro bianco che ha chiamato Un impegno comune per la salute, il libro bianco sullo sviluppo socio-sanitario di Regione Lombardia. Questo libro bianco disegna quelle che sono le intenzioni della Giunta regionale in ambito socio-sanitario, da qui al termine della sua legislatura. È un libro bianco che è stato presentato e che ha coinvolto nella sua realizzazione tutti gli stakeholder, come vengono chiamati, o gli interlocutori in ambito sanitario. Quindi a detta di Maroni c'è stato un coinvolgimento di tutti coloro interessati per la realizzazione di un nuovo modello organizzativo sanitario regionale. A fronte della presentazione di questo libro bianco ha chiesto il Presidente Maroni anche alle parti politiche interessate di fare una sorta di controproposta. Quello che faremo noi è insistere affinché non un libro bianco ma un vero progetto di legge venga presentato nelle commissioni competenti che sono la Commissione Sanità e i Servizi Sociali e quindi la Commissione 3. E lì in quell'occasione noi faremo la nostra controproposta di servizio sanitario regionale che parte dai nostri progetti di legge e verrà integrata con i nostri progetti di legge, alcuni dei quali già presentati, altri ancora su Lex, ma che deve essere anche qualcosa di più ampio perché coinvolge davvero tutto il nostro programma regionale. Allora quello che abbiamo pensato noi è di chiedere di mettere su Lex anche la realizzazione e la scrittura di questa controproposta al libro bianco che non è un vero progetto di legge perché i singoli progetti di legge sono già stati depositati in commissione e altri sono all'interno di Lex, ma è un'unione, una visione unica del nostro programma regionale di socio sanitario e che a nostro avviso deve passare su Lex perché necessita appunto della partecipazione di tutti. Quindi abbiamo depositato questa bozza di controproposta al libro bianco di Maroni e vi chiediamo di collaborare con noi per la realizzazione, la costruzione e il miglioramento di questo contro libro bianco, certo tenendo come punto di riferimento quello che è il nostro programma regionale elettorale. Quello deve essere il punto su cui non ci possiamo discostare ma dal quale estrarre tutti i principi, tutti i dettagli per costruire questa controproposta al libro bianco. Grazie.